Tei Wu Ibra dentro ancora il pallone per Nocerino che ha una buona intuizione va con il destro ma non trova la porta Reginaldo sfrutta il movimento per liberarsi con il destro palla sul fondo buona giocata di Reginaldo altra palla per Ibra si coordina rimane lì il pallone Ibra poco alto sopra la traversa tutto di forza Ibraimovic Rubinio altro corridoio Boateng controllo Borkic e poi del grosso in calcio d'angolo centrale per Brienza vuole l'1-2 palla di Calaio Brienza dentro Pozzoni in posizione regolare e la parla esce di niente Tai Wu largo Boateng Tehuovo a dentro da Ibra di prima per Sedorf Sedorf lotta passa alla fine Sedorf e c'è l'anticipo proprio di del grosso Ibra accompagna Sedorf a sinistra Ibra sfrutta il movimento e vada fuori per Nocerino Antonio Nocerino sempre Nocerino ancora Nocerino che stagione di Nocerino in una sera neanche facile per lui eccolo l'assist per Nocerino Bolzoni l'ha toccata con la punta del piede sinistro Bolzoni prima forse ce n'è stata anche un'altra Prienza per Bolzoni non passa chiusa Quilani possibilità di contropiare con Robigno che va c'è Ibra allargato a sinistra arriva come un treno Boateng dalla parte opposta lo vede Robigno eccolo servito in area di rigore e arriva anche Berkic calcio di rigore va Boateng si è buttato si è buttato clamoroso guarda non lo tocca non lo tocca con il ginocchio sinistro guarda lui trascina il ginocchio sinistro lui trascina il ginocchio sinistro e poi lo va a prendere Zlatan Ibraimovic 2 a 0 Ibraimovic che la dà a Pato che si coordina con il testo Borkic poi Boateng di forza in area di rigore Aguilani ecco il cross Ibra sul fondo Ibra controllo a seguire di Ibra riesce a mantenere il pallone poi lo dà Pato Pato dentro per Mocerino possibilità di cross ancora per Pato la salvata del Grosso protezione di Grossi Brienz e poi l'apertura per del Grosso arriva il traversone verso Bolzoni che parata di Amelia molto bravo anche Bolzoni cominciamo allora a vedere per l'anima Grazie a tutti.